Salve a tutti ragazzi, sono sempre Momenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi siamo qui con un nuovissimo video, il primo video di una nuova serie che porterò qui sul canale Niente di particolare, ma ci tenevo tanto a portare appunto questo genere di video Come ben sapete sul mio canale faccio le vostre carriere allenatore Ma non ho mai fatto una serie dedicata alle mie carriere allenatore Partirò qui da FIFA 19, signori, perché come ben sapete FIFA 19 dà la possibilità di creare 4 slot salvataggi Quindi 4 carriere allenatore diverse E visto che io ho intenzione di iniziarne delle nuove, sia su Twitch sia in privato Vi faccio vedere i 4 salvataggi che probabilmente comunque tutti voi conoscete Per poi sovrascrivere altre carriere allenatore su questi salvataggi per creare qualcosa di nuovo Quindi oggi vi faccio vedere le 4 carriere allenatore che ho fatto in questi mesi E dopo questo video inizierò a fare qualcosa di nuovo Porterò una nuova carriera allenatore su Twitch Porterò una nuova carriera allenatore su YouTube E qualche piccola chicca in privato per conto mio Che poi vi farò vedere nel prossimo episodio Mi raccomando ragazzi, continuate voi invece a inviarmi le vostre carriere allenatore Trovate il link per capire come fare e inviarmi i vostri screenshot in descrizione In descrizione trovate anche il link per scaricare OneFootball Applicazione calcistica gratuita sia per iOS che per Android Di riferimento, la migliore applicazione sul mondo del calcio Allora signori, come potete vedere questi sono i miei 4 salvataggi Abbiamo Inter, Hamburgo, Wolverhampton e West Ham Partiamo dalla più vecchia, ovvero la carriera allenatore con l'Inter Che ho portato a inizio anno qui sul canale e che ho continuato per un anno su Twitch Chiaramente chi non mi segue su Twitch non sa che ho fatto un altro anno di questa carriera allenatore Per proseguirla un po' insieme a voi Siamo nell'anno 2023 e questa è la formazione titolare Chiaramente andando avanti con gli anni si comprano più o meno sempre gli stessi giocatori E così è stato praticamente Questo è l'11 titolare Guardate un po' ragazzi che bella squadretta Abbiamo Lunin in porta 96 signore Lunin l'ho fatto crescere fino al 96 Qualcosa di devastante Io non ho mai visto un portiere crescere così tanto e ha 24 anni Questo vuol dire che potrebbe crescere ancora di più Abbiamo Lucas Hernandez come terzino sinistro Laporte, Skriniar e Beyerin Arthur, Saul Niguez i centrocampisti centrali Il nostro Rafinha è rimasto inamovibile in campo Neymar, Icardi e Mbappé Io direi che è un 11 titolare veramente devastante Andiamo a vedere poi la panchina In panchina abbiamo Colidio Che è riuscito a crescere fino all'83 A 23 anni potrebbe crescere ancora un po' Richarlison preso come sostituto di Neymar Kovacic, Foden, Foden non può mai mancare Chiaramente Lautaro Martinez, 86 A 25 anni potrebbe crescere ancora De Gea come riserva Rafinha, De Vrij, Bastoni Teo Hernandez Koke e poi il mitico Berni Che anche Berni non può mai mancare Sicuramente manca qualche sostituto ragazzi Perché lì ho fatto un po' la live per finire al meglio la carriera Non sono stato a coprire tutti i ruoli Mancherebbe un terzino destro sicuramente E magari mancherebbe anche un centrocampista centrale Un pochettino più fisico magari Perché no, magari che mi faccia un po' di muro Per il resto direi 11 titolare veramente top Questi sono i dati della carriera Ecco abbiamo 4 campionati vinti Coppe nazionali 3 e 2 Champions League Signori, migliore vittoria 6 a 0 contro il Sassuolo Peggiore scopita 5 a 0 nel 2019 però Quindi eravamo un po' agli inizi contro il Real Madrid Ve l'ho ricordato Forse i più temerari se lo ricorderanno Era in Champions League E poi niente Abbiamo giocato 290 partite Ne abbiamo vinte 206 Direi che è veramente Ma veramente un'ottima squadra questa Veramente una bella carriera Quella che abbiamo fatto con l'Inter Che ormai ci tiene compagnia Da anni a inizio stagione Adesso signori passiamo A una carriera allenatore molto interessante Che ho fatto interamente su Twitch Avevo portato qualche episodio su YouTube Lo trovate ancora sul canale Ma non veniva seguita come serie Quindi ho deciso di continuarla su Twitch Carriera allenatore con l'Hamburgo Voi sapete bene che l'Hamburgo parte dalla serie B tedesca Ed è stata una di quelle squadre Che non era mai stata in B fino appunto A quest'anno Dove appunto sono scesi Quindi mi piaceva come progetto Perché appunto volevo farli ritornare Da dove provenivano Da dove sono stati per praticamente una vita Ovvero in Bundesliga All'interno di questa squadra C'erano dei giocatori molto interessanti Sono rimasti in pochi Fate conto che neanche Arp È presente in questa squadra Perché l'ultima stagione L'ho ceduto Per un'offerta irrinunciabile Voi direte Menzo ma cos'hai con me? Avete ragione Forse non avrei dovuto venderlo Però ragazzi È stata una carriera particolare Dove c'è stato un bel cambio di modulo Ho iniziato a giocare con le due punte E Arp con le due punte Non rendeva per niente Questo è l'undici titolari Signori che ci troviamo davanti Appena apriamo questa carriera allenatore Abbiamo Pickford in porta Robertson Come terzino sinistro Ottimo terzino sinistro Devo dire Lenglet e Sanchez Come difensori centrali E Der Militao Terzino destro Secondo me Der Militao Rende meglio La terzino destro In carriera allenatore Pogba e Talisca Come centrocampisti centrali Voi vi chiederete Ma mezzo Talisca È un trequartista Però come vi avevo già detto Un po' di volte Talisca così basso Secondo me rende molto Perché Sui rinviati La prende quasi sempre di testa E poi ha più spazio Per lasciare andare il mancino O comunque Inventarsi delle giocate interessanti Poi abbiamo a sinistra Sancio Ha 24 anni Quindi può ancora crescere molto E Sané A destra 28 anni Ormai lui è arrivato Come processo di crescita E come potete vedere Ho deciso di vendere Arp Per prendere Kane Cioè Ho venduto Arp Ma come sostituto Ho preso Kane Perché volevo provarlo Ecco Se fate una carriera Con l'Amburgo Signori Non vendete mai Arp Non fate questo Errore E come al solito Lautaro Martinez In coppia Devo dire con l'Uragano Veramente un'ottima coppia In panchina abbiamo Pulisic 25 anni per lui Jovic Infortunato Bentancur In dombele Come sostituto Di Pogba E Taliska Poi abbiamo Semedo Come terzino destro Andanovic Come sostituto Di Pickford E mai Signori Questo è un difensore centrale Che vi straconsiglio Perché è veramente Ma veramente Tanta roba Lo trovate nel Bayern Monaco Io sono riuscito Ad acquistarlo Il primo anno Perché avevo una clausola Recissoria bassissima Ve lo straconsiglio Parte Se non ricordo male Con 64 65 di overall A 18 anni Come potete vedere Comunque cresce Cresce molto È stato Insieme a Van Drongel In uno dei miei difensioni centrali Quasi Fino all'ultima stagione Poi dopo ovviamente Ho dovuto fare il salto Di qualità Però è un giovane Che vi straconsiglio Un giovane Che vi straconsiglio È anche Vagnoman Terzino sinistro L'unico Se non erro Rimasto Della vecchia guardia Assolutamente Sì ragazzi Vagnoman Terzino sinistro Dell'Hamburgo Attuale 23 anni 82 Può fare sia il terzino sinistro Che il terzino destro Lo trovate subito A poco prezzo Cresce un po' lentamente È vero Però Come potete vedere È un terzino sinistro Atipico Molto fisico 1,87 Per 86 kg È bello tamugno Bello grosso E attenzione Piede debole Quattro stelle Nella realtà È già nel giro della nazionale Non maggiore Ma nella nazionale Tedescan Under 21 Quindi Tenete d'occhio Vagnoman Se ci fate caso Nelle vostre carriere Probabilmente Qualche top club L'ha comprato Per esempio Nella mia carriera L'ha comprato Il West Ham Se non ricordo male L'ha comprato Il Manchester City Quindi Vuol dire Che questo giocatore Ha tanto potenziale Ed è un ottimo Giovane Da far crescere Poi abbiamo Un altro portiere Di riserva E Vallecco Difensore centrale Veramente Ma veramente Molto interessante Siamo nel 2024 Signori Quindi un anno in più Rispetto alla carriera Con l'Inter Abbiamo vinto Praticamente tutto Con questa squadra Questi sono I nostri dati Abbiamo vinto Tre campionati Abbiamo vinto Una coppa nazionale Abbiamo vinto Due Champions League È stata una bella carriera È un bel progetto Ragazzi Ve lo straconsiglio Soprattutto perché Mi chiamo Menzo Figo Gu Bellissimo come nome Del manager È un bel progetto Raga È un bel progetto Avete la possibilità Di rebuildare una squadra E penso di averlo fatto In maniera Eccezionale Come potete vedere Harp L'ho venduto A 120 milioni Al Liverpool Ho venduto anche Sessegnon Ho creato Dei bei giovani Ci ho fatto Delle belle Plus Valente Come potete vedere Anche Mateus Pereira L'ho venduto A 70 milioni Ampadua 20 Ci sono state Delle belle eccessioni Ho scoperto Dei giovani interessanti Che poi ho rivenduto Quindi è stata Una carriera Molto intensa Devo dire Attenzione ragazzi Perché nell'Hamburgo Ci sono già Dei giocatori interessanti Quindi Non per forza Dovete venderli tutti Io l'ho fatto Solo così Per divertimento Perché farle in live Su Twitch Ragazzi È tutto diverso Sapete Seguo i vostri consigli Faccio un po' Quello che la maggioranza vuole E quindi Non è proprio Ciò che voglio fare Io al 100% Ma è giusto Intrattenervi Un po' Anche Seguendo i vostri consigli Ecco Vabbè Poi il quarto salvataggio È la carriera allenatore Con il West Ham Signori Come avete visto Nello scorso episodio Abbiamo vinto La Champions League E adesso partirà La terza stagione Terza stagione Che ancora Non so come si svilupperà Sto aspettando Un po' Di vostri consigli Sicuramente La linea difensiva Cambierà quasi tutta Un altro esterno destro E comunque Forse anche Un altro centrocampista A seconda delle Occasioni Di mercato che incontrerò Per il momento Abbiamo vinto Un campionato Abbiamo vinto Una Coppa Nazionale Abbiamo vinto Una Champions League Devo dire però Che per essere La terza stagione E quindi aver fatto Solamente due stagioni È tanta roba Mi sono piaciute Le carriere allenatore Che sto facendo In questo periodo Ma ne manca una Ragazzi Ne manca una Appena conclusa In live Su Twitch Ragazzi Ed è la carriera Allenatore Con il Wolverhampton Perché era La squadra La seconda squadra Più votata Nel sondaggio Per partire Con la nuova carriera Allenatore Ho deciso di portarla Su Twitch Quindi mi raccomando Ragazzi Seguitemi Assolutamente Su Twitch Questo è l'undici Titolare Signori Devo ammettere È un undici titolare Mostruoso Questa carriera Allenatore Ragazzi è stata Una carriera Allenatore Veramente molto particolare Mai mi era successo Una cosa del genere Il primo anno Se non ricordo male Sono arrivato Quart'ultimo Rischiando di retrocedere Ma ho vinto La Carabao Cup Se vinsi la Carabao Cup Hai come diritto La possibilità Di andare In Europa League Il secondo anno Ho rischiato di retrocedere Sono arrivato Quarto Quinto Ultimo Ragazzi Ma ho vinto L'Europa League Questo vuol dire che Sono riuscito Ad andare in Champions League E se non ricordo male Il terzo anno Ho vinto la Champions League Non sono mai riuscito A vincere il campionato Perché Le mie concorrenti Correvano veramente Parecchio E comunque Con questa squadra qui Le simulazioni Non andavano bene È veramente un peccato Comunque Questo è l'undici titolare Abbiamo Sundergaard Signori Ho scoperto Un paio di giocatori Veramente molto interessanti Per questa carriera Allenatore Perché Ci sono state Delle gemme nascoste La prima gemma nascosta È Sundergaard Signori Portiere De Wolverhampton Portiere De Wolverhampton Lo trovate a 17 anni Già in squadra Qui a 21 anni 86 di overall Ditemi se questa Non è una gemma nascosta Tanta tanta roba Un'altra gemma Non tanto nascosta Perché comunque Vignagre Gioca Anche nella realtà È Il terzino sinistro O comunque L'esterno sinistro De Wolverhampton Vignagre Ha una spinta incredibile Questo giocatore Raga Veramente ve lo straconsiglio Per un terzino Se volete Un terzino sinistro Low cost Comunque Vignagre Inizialmente non costa tanto E ha veramente tanta spinta Si sovrappone sempre 23 anni Potrebbe crescere Ancora Kimpembe Delict I difensori centrali Delict Non l'avevo mai provato È devastante Cancelo sulla destra Goresca Come mediano Uar E Arthur I centrocampisti centrali Poi abbiamo Pablito Fornals Il fornaio Tanta roba Veramente Raga Questo giocatore Sia cc sia trequartista Tantissima roba Poi guardate Le mie due punte Jovic 90 E da 24 anni San Maximen Ragazzi Questo giocatore qui È devastante Devastante Fatto giocare Come attaccante È Clamoroso Quasi al 90 Anche lui In panchina Poi abbiamo Cutrone Rodri Gibbs Bianco Di Hop Raga Questo giocatore qui Mi piace molto L'ho trovato nel Monaco A 17 anni Anche lui Può fare molti ruoli E guardate un po' 21 anni 86 Veramente devastante Straconsigliato Una piccola gemma Anche lui Radetzky In porta Arons Come terzino destro Non è male Non è male Secondo me cresce un po' lentamente Non gli ho dato Non gli ho dato Molti allenamenti Effettivamente Però giocava Sempre titolare C'è stato un anno in cui Era inamovibile Quindi mi aspettavo Una crescita Un pochettino Più alta Upamecano Reguion Pavard Non mi è piaciuto molto Idonis Vabbè Sì in questo qui E poi abbiamo Brahim Diaz E Barella Veramente Una grande squadra Secondo me raga Veramente Una grande squadra Purtroppo Si è ripetuto Jovic Ragazzi Però come detto prima Eravamo in live Molti di voi volevano Che comprassi Jovic E ho comprato Jovic Ecco Quindi l'ho fatto un po' Per eseguire i vostri I vostri desideri Ecco Volevo farvi vedere un attimo I dati di San Maximen Perché è veramente devastante Come potete vedere 52 presenze 27 gol 13 assist Mentre Jovic 26 gol 8 assist Clamorosi Veramente ragazzi Questi giocatori Sono stati veramente Ma veramente Clamorosi Bellissima carriera Con Wolverhampton Ragazzi Inizialmente una squadra Che non mi è piaciuta molto Perché sia Iota Che Adama Non mi piacevano Gli ho venduti subito Per fare cassa C'è stato il fenomeno D'Abburre Ci sono stati veramente Ma veramente Tanti episodi Particolari In questa carriera Allenatore Tra l'altro ragazzi Presto inizierò Una nuova carriera Allenatore Su Twitch Quindi venitemi a seguire Anche lì Perché ci divertiamo Tantissimo E potete essere I protagonisti Delle mie carriere Questi sono i titoli Che abbiamo vinto Abbiamo vinto Tre coppie nazionali E se non erro L'Europa League E due Champions League Quindi veramente Ma veramente Tanta roba Purtroppo la peggiore sconfitta È avvenuta In Supercoppa Europea Contro l'Atletico Madrid Però Che dire raga Che dire Veramente Ma veramente La carriera Allenatore Mi dà Emozioni E non vedo l'ora Di iniziarne Delle altre Come detto Questa è una serie Fatta apposta Per mostrarvi Le mie carriere Allenatore Ma soprattutto Adesso ho la possibilità Di iniziarne Delle nuove E farvi scoprire Magari Nuovi Giovani talenti Come possono essere Söndergaard Vignager Diop E tanti altri L'un in ragazzi 96 Di overall Devastante Detto questo Spero che questo video Vi sia piaciuto ragazzi Qualcosa di nuovo Qualcosa di Ma non sono mai visto Non credo Ma comunque Sul mio canale Non si è mai visto Ecco Vi ho mostrato Tutte le quattro carriere Allenatore che ho fatto Se qualcuno Si era perso qualcosa Magari fatemi sapere Cosa ne pensate Venitemi a seguire Su Twitch Perché ci divertiamo Detto questo signori Ci vediamo Alla prossima carriera Allenatore Alla prossimo video Un saluto da mezzo Scarica 2 on football Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi